Tutto registrato e quindi mi incacchete il FUS perché sto registrando certo e certo Ma non c'è Massimo Sparente ci sarà se l'arvede Tutti i nemici ho catturato la battaglia per vincere Ma questo è quello che te la visce Quello è scontro a lui con le armi casuali Ah casuale Sì sì Va bene Non fate errori nemmeno E' il veterano? Oh eeeh Ma che vuol dire? Ma che te fanno uccidere? Eh c'era, tu mi dovevi uccidare? Mi sono ucciso Tu mi ha ucciso No ma ho ucciso a zio Sta sopra, sta sopra 10 secondi Silenzio Mo'è c'è anche la scala della Sì Il motivo attivo Deve essere nostro Dove è stato Dove è stato No Un round è andato Non dategli trequare Ma se non c'è non c'è Non c'è Ma sentivo i passi da sopra Sette vanno da calare E qua Non devi passi da faccia Sì sentivo i passi che stavi sopra Sinceramente non mi aspettavo che calovi dalla finestra Ma mai Ma vediamo Ma non c'è Ma non c'è Eh ma dai Ma non c'è Ma non c'è Ma donna quello Scuso Ma tutti qui da giro le faccio girare tutte a calire già sopra e fatta ne sopra occupa quando la bandiera di sapendo questo lo sai d'avanzo a morte dai ragazzi manteniamo lì a 0 e mi raccomando l'obiettivo è che devono stare a zero non dobbiamo solo vincere dobbiamo migliorare che dimora mannaggia l'amadosca chi si fa la sopra scendi dalla scendi dalla zio sberla scendi dalla zio sberla non fate errori nei prigionieri guarda che io il giorno dopo so parlare con ivan e con barbara che non giù il numero e non gli ho detto ragazzi queste cose non devono esistere ma nooo guarda no stavo visto a salì stavo visto a salì stavo visto a salì dai uno ne dai doi sopra la casa prendetevi la bandiera facile nooo fammeli dai qua orco giuro round decisivo dategli il colpo di grazia sei un mostro non piacere ora spegnetemi ok finisco solo 6 a 0 e vado ah con la pistola maggi no no col pompa no va non ho becchi che cavolo ne so che 10 secondi era meglio il pompo va tappi alla bandiera pino va tappi alla bandiera pino no ultimo obiettivo vaterli fuori armi in bugno non è ancora finita ma f***o stai l'ho visto non me l'aspettavo mai che mi colpivi infatti ho provato a scappare ho provato a scappare ho usati del là sopra raga ci vado io mi vado a suicidare io a tutta l'alzano ahahahah si può male ahahahahah 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 ahah ha fatto ahahahahah ahahahahah ahahah che mi volevi dire vaffangula no oh che aveva fatto sono imbattibili dovranno ricredersi eh facciamo scherzi eh questo lo dobbiamo portare a casa facciamo scherzi possiamo chiudere ma per forza buonanotte buonanotte 10 secondi 10 secondi 10 secondi nooo grazie 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 ma tu mi la spiangare io non finisco ahahahahah guarda da la oh impossibile è un bosco non vince brava brava già da successo oh Ivan che dobbiamo fa' ahahahahah dai dai Ivan mi raccomando eh non ce la posso fare ad accettare un'altra volta sta cosa manco io mi suicidio ahahahahah 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 nooo nooo cazzo di lato nooo cristo 10 secondi non ci credo nooo tra poco si ricomincia ma mi sto stendendo male si mette male sto stendendo male non ha finito la partita no la pistoletta oh la scottura cazzo oh oh eeeh non perdiamo sta partita uoh 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 l'amato uoh 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 uooh portiamo la casa comunque una volta una città 505 far facendo la greve singa di abba premi quadrato vai sulle anza ok non sai che dovete controllare se con quella la trasera è stato umiliato forte per pasquale anche soltanto l'abbiamo fatto partiamo da altri un atrium mentre aspetta l'impostazione tu già ce l'avevi all'uomo non la facciamo l'uomo non metto la mattina ma non glielo facciamo solo perché quando l'altro in reggio la modalità mi stava a fare cosa so partire generale non c'è due passi ma diciamo che si può vuole per un mitraglione o catturate la bandiera dei supplementari si è questo roma con il mitraglione qua c'è stata un'altra patata per favore con il medicino sai cosa deve fare la seconda ma non è la strada a giustare un po' di cose è arrivato in scivolato con lo metraglione t'avevo visto che stavo in là e sono arrivato puntato ma è tutto dentro ma va bene a destra sta a destra a destra la stalla l'uscita dalla sua sinistra eccolo 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 cazzo sta torna in azione sì ma io stavo guardando mi è confuso a sinistrati si girata a destra ha fatto due headshot no gioco se nonno continuate cosi la fine membro che m'è arrivata la rete l'usgraziato vai dai ragà oh ma ti aveva del cazzo nooo non si muore non si muore ma col temone fio io fattiti più male dai ragà dai più mp7 orco d'un cule che mira di merda che sono caverò con la prossima che ci portiamo sul 2 a 0 dai raga il chiaro maledetto calma di calma di ricarica a destra a destra la 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 10 secondi e che mezza l'acqua su arriviamo a 5 dai dai ne capite non l'ho ingazzato io ma chi è? questo è no ma che cazzo guarda gli scendati dai raga sei a 1 un miliardi proprio qua un miliardi forte va bene poi quei 50 euro che li do eh ne vuoi fare la 5 brutti questi non mi piaciuto non ti piaciuto brutti 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 di sua cosa è una botta i persi non ti piaciuto no no è il problema è che mi sono uccisi quello è il problema ma va soltre uccisione cargo e chi è qua? eh questo è bruttissimo la odio cargo eh eh questo è tipo 4 la odio proprio perchè questi si giocano eh smv4 eliminate tutti i nemici la bandiera sta in centro per chi non lo sapesse il primo quadro di modern warfare 1 ah è vero è vero il quadro della storia la prima il primo proprio come inizia proprio sulla nave come non riconoscere tutto quello che è giocato non fate errori né prigionieri è piccolo però è abbastanza non lo faccio non lo faccio ostacolo vabbè ma che cazzo ti sono frevellate ci stiamo nono ma se vabbè guardia qua è che il vento ha preso pure il grande tue infine ti capisco c'è finita massima no tu la butti o la ma che cazzo che c'è da fuori lanci vinciti mamma mia che mira mia merda da la, attento no, non da la combattere c'è la madonna di me ma non sono cazzo annaccia mamma mia teneteli sotto pressione cazzo venuto da rampe HEY che li hanno aperto in ciu su una zona uno che è una bomba ma la R9 marco 2 dai ragazzi ci vediamo a gambara un po di chiume gravi raga distruggiamo cargo di mv 4 ma maledetto trattano che c'è più luce si sta dietro di te No, la partita è portellata, non c'è Crippi le pomme Piro, giocate la con Pomme Si sentono imbattibili, dovranno ricredire Allora, vedi, 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 vedi Allora, vedi, 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 vedi Uccideteli tutti, a costo della pulona, eh, chi è quella? La magnum I questi giocano, anche se state fermi Oh, maledetta, oh, ma l'ho tru, cazzo, dai Porco, non te ho visto, che cazzo Mamma, ci sta, bello, la gomma, non sta Ma dai, non lo finis, stai la gomma Colpito, dai, prima io ti ho colpito, però non muore Guarda, vedete, ma c'è, ma c'è, ma chi sei, no Agribbio Stai, sereno Scaliti Jeff, saliti Jeff Ma anche il teatro, no Ormai, non pro te, ma chi uno Sì ma io facevo da esca, noi siamo messi, d'accordo Non posso immaginare 5 a 1 5 a 1 Vai, ma questo è il cecchino tu Guarda, 5 a 5, per dopo lo facciamo Ah, io lascio di bello Ma la conosco, ma la Ti vedi? Ti vedi? Mamma mamma, come te voi ti aspetta con là? Cioè, ma va, se non lo vedo, aspetta con là? Ah, se sai che sei morto? Ah, se sai che sei morto Ah no, se sai Ah, non hai capito Eh, sono morti Ma che cazzo Nooo, sberla Nooo Vai, grande 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 Si Calma Non non ho detto che facevo il toglione, ma Eccolo, èissimo Bravo Mannaggia Ne plumar Tiro, sta sotto a te! No, cazzo! Eeeh, c'ha il mitico! Eeeh... Tiro, ho sentito questo sotto a te! Bravo, come va? Accida! Accida i piedoni, è quello che mi accida sempre a me! Accida! Dai, è finita, dai! Con l'augo è finita la partita, su! L-M19! A posto! Armischi, dai! Gaglia! Catella, che cazzo di culo, questo! Ah, però, come chi ha fatto? Non ricaricare! Eh, lo sai! Guarda là, va! Me ne sei vinta, eh! Non c'è nessuno qua, va, vai! Fa il giro! Sta sopra! No, Cristo! No, no, di là, di là! Dritto! Qua, 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 sta! Eeeh, lì! Qua, qua, qua! Eh, troppo, rendi conco! Sopra, vengeti poi, eh! Sopra, proprio, non sbagliare questa massa, non è! Ok, sopra, ci si fatti con un'ossessione, eh, quello giacchino! 3-0! Io ogni po' che vai sopra, mi muore! 3-0! Quindi, Pasquale, si sta a vendecca da... Dall'altra sera, si sta... Si sta a mettere la pane! Voi lo si, quello problema, che si sta a registrare! 3-0! Ah, di... Sopra, sai quando vuoi far passare a Ninz? Aspì! Ehm, abba, ma, pur se dovessi vengi stasera, come un piste è una buona, se la fa da bella! Vedi che l'altra sera, che ti vengico? Ma che stupi, Pasquale? Solo il bambino, lo ti vengico! Ehm, grevellato! Barbara, violetta! L'alleanza, abba! Eh... Guarda, non me lo ricordo! Si, non me lo ricordi! Hai da buscata e basta, che potevo portare! Non me lo ricordo! No! Perché abbiamo fatto un sacco di partite! Eh, appunto, avete fatto un sacco di partite! Eh, appunto, avete fatto un sacco di partite! Esattamente! Non è vero! Barbara, metti alleanza! Premi quadrato! Eh... Vedi che ci sta a sapere! Vai! Solo i bagni avete vinto voi! Ma che stai addi qua? Alla due stai le pina avete vinto noi! La mappa che avete vinto noi! Qua avete vinto noi! Qua! Qua avete vinto noi! Qua! Qua avete vinto noi! Ma vattene! Ma vattene! Vattene! Ma te lo ricordo pure l'uccisione che ti so a fare! Ma grazie alle tre! Sei a dormire! Ma che andavamo a vinto? Ma avevi vinto alle tre! Si! Comunque non è registrato niente! Quindi non c'hai le prove! Adesso invece c'ho le prove! Cazzo le pianiste che stai guarda! Eh! 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 Porco di che me parte le portellate a me! Ma che bacio porco il... Mette tattico! Mette tattico! Cura a me! Mette tattico! Che sta a base! Ma è me peggio! Eh! No no è mia! Io lo devo eliminare! Io lo devo eliminare! Guarda che moriva! Ah! Guarda che moriva! Ma non c'è la possibile di eliminare il problema del tasto! Beh sì! 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 Io devo trovare la soluzione per eliminare qualsiasi cosa da sto tasto! Ah! Serio eh! Ma non è solo qua! Pure quando gioco online! C'è questa cosa! Nooo! 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 Mi si è aspettato! Nooo! 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 Resti soltanto tu! Nooo! 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 It's God Nooo! Nooo! Ma che cazzo so me aree? Calmates pilocando cazzo è ferma cazzo! Cala sotto! No da qua! Dalle scale! Ascolti che c'è la bandiera. alloci secondi e cioè 100 di vita contro 42 gira di stagione di te e cucciate la prossima tiri cucciate che è quello pal colpo singolo colpo singolo oh 10 secondi preparatevi si torna in azione guarda pilone o pilone spara in basso non lo sapete non lo sapete nooo completa la missione soldato sei l'ultimo rimasto attento che sta dentro a casa attento 10 secondi no no via prendete l'obiettivo preparatevi muurte 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 ricordate sono solo affari 20 secondi mi scopi muurte 80 di vita cascua devi morire cascua stai calmo che stai a perdere brutto esatto 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 stai calmo nooo ma sto dietro nooo sopra 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 e' un'altra una a destra nooo ma dai dai ma dovevo stare? va dai dai, dritta hedge ma ci acribbio toh siamo in vantaggio ma dobbiamo mantenere toshte 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 bene, datevi da fare uzi che palle la stasopra fatto è morto è qua ci stiamo ancora c'avevo 10 di vita l'amore capita capita ogni tanto d'amore pure tu tutto da questo round respingiamoli c'è una puttana maledetta a destra dai uno contro uno 10 secondi guarda che cazzo di camperone questa mossa è andata tutta la partita la partita è andata tutta la partita ho cercato di capire dove cazzo andava ho sentito rumori hai ragione massimo siamo pari adesso si decide tutto con il suo singolo si m14 nooo nooo ciao ragazzi ciao ciao ragazzi 40 ciao ragazzi ciao ragazzi ti spiace quattordici cinque questa è l'alternativa che ti devo io andiamo avanti andiamo avanti condiviso tutto ciò è schermo condiviso da fa l'alternativa da mezzo a piangere che sono attivare di film ma solo sembra una traveste infattibile adatta entra eccolo eccolo ci siamo e davvero manca davide ma lui non me lo fa fa a me prima aspetta il primo me l'ha fatto fa come l'ha fatto fa rimetti alleanza bocca aspetta che lo sta fa possibile nella sessione nel party perché quella era l'invita al porti alla sessione no per entrare la sessione di un altro quittore puoi fare entrare e poi te invitano a rientri perché il suo schermo condivise non c'è nessuno devi quittare con quell'altro entra con adesso la giornata rettri in vita e si intrati ma no sti invertisco ma la fase no ma chi è vostro figlio per caso miglio per caso è lo più grosso che stai stufata gamba vorrei precisare ma io che lo puoi inviutare ma non c'è molto no e barbara ma guarda no no barbara si no barbara si devi guittare e entrare con quelli papà la mamma deve guittare oh devi entra e poi te li invito e ti fai trovare quando devi entrare con me si a me ne fa proprio forse di capito al portandolo non tiole dimondoli posto di polimico acqua calcare all'orquadrato o barbara due volte ancora no aspetta che pure dare 대 monot boi a caldo davide l'iglione apposche ecco i bagni i bagni i bagni è l'unica che poteva di vingi stasera e ricordi questa si perchè non devi vingi dai questo stava la madre della campagna la tipo che si buttava dall'alto e scontati il muro eliminate tutti i nemici o catturate la battiera dei supplementari per bici chi c'ha coi? ladro che è una bomba ripulite la zona grande ragazzi a me parte le cartellate grandi ha fatto tutto pilone eh pilone col colpone eh roba sua eh tre uccisioni ha fatto aia aia nooo la bomba sui sto riposate tra poco scopi cazzo via advor ma qua te so cosa che la cosa non dovuto morire la mente doveva lanciare una bomba non fate errori né prigionieri un po' si grazie non sapevo che c'era da sopra non lo vedevo processo se non c'è che cazzo ti faccio da fare non c'è niente di metterlo mi permette di agica vedate velo sopra 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 l'ultimo il massacro non devono passarla non sapevo che stava a pusciare uno ma no cazzo per questo è un po' la mia la mia la mia la mia la luce mi ti abbassato sto cristo promuotere per sbaglio il film di spingere il il ma guarda quello sempre arrampicato sta no a te lo sapevo bravo dai ragazzi infatti mi si aggira ha finito la munizione bravo pilone grande pilone pelone mettiti contro il muro per il cielo noo cazzo mannacchia che sei da piano lanciarazzi mi hai perso pure il gizzi oggi si ammette proprio male 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 master non va bene bene nooo ma boi proprio ne ho qui ecco qua non ne ho qui e capito va capito? non ne ho qui ma non ne ho qui si muore pilono mannaggia l'annacosco la palestra la palestra nooo la palestra mannaggia ancora un round ed è fatta forza ma che cazzo è che zoro ma che cazzo è che zoro ma questo secondo me è un po' cazzo è trattato l'energia uno caricatore interi ho sparato a vicinanza proprio da due centina 5 a 0 a me l'ho messo per il trattato ma scordi metti alleanza andiamo prossimo come mai ma faccio più uccisioni che tommo che ama fa è normale è normale si che vai alla grande no no ma non c'è ninja coi ha detto stasera cazzo di chiacchierone questo ma annaccia la vostra ma lì a lì quando fa la muta 5 a 0 ragazzi accomodatevi ma 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 te rendi conto con un altro gruppo che succede e che lo vogliamo quando nel gruppo e la battiera e la stalla e mezzo lucarato ma reganti colpo sicuro ecco qua la traccia ho da me vende un'opera il tempo guarda la cosa ho fatto maestro oggi ora vediamo un po' non devono passarla liscia tu cazzo dove cazzo sta? dove cazzo sta? guarda dove cazzo sta? guarda qua cazzo mi ha piato è un bugio mi ha piato guarda quando è scemo quello guarda si чисotto con i piccoli guarda scemo quello stupendo guarda tre scemo quello guarda scemo giù ho un ag questo caban vero non ci credevo che un altro no guarda destra guarda 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 ma la cazzo ma la produccia cala sotto, cala sotto metti dietro alla roccia io li sto cercando bravo cosa? hai visto? hai visto? hai visto? ma porca miseria sono la switch a clavistole cosa Pasquale si soccodano 5 colpi di pistole inza morte yam fateli a pezzi yam e infatti la pure sono uccisi a Pasquale nooo Pasquale, ma lo puoio guarda questo invedi niente, invedi eccolo qua ah, c'è il cazzo nooo, boh è una facile non lo vedevo non ci andavo con il ragione sotto con il prossimo tempo ma ci dico la fissola e puntata la testa sì, ma se stanno non li vedo guarda questo guarda dove hai stai pilono guarda dove hai stai pilono ehm, un po' più calmi eh non andiamo troppo all'attacco nooo, dove è cazzo no dove è cazzo no sapevo che dal lago mi chiamò appena ho sentito dalla pelle ah, madonna, ma che è dai ragazzi dai ragazzi così più calmo, più calmo va benissimo così mi chiamò danno accamberato un po' va benissimo così va benissimo così non fate eroi né prigionieri guarda che hanno il tempo delle regole hai dato un po' di sperma me sa nooo, che basta ma sei stronzo sei ahahahah ci sono seguenti ci sono seguenti ma cristo va qua devi morire ti sono detto ti faccio tombare lo menisco ti faccio tombare sparate faccio la pianta chi appadonna faccio la pianta sparate il meniscolo ti faccio tombare va qua il meniscolo mi metto esotti qua va bene noo cristo ma vaffanculo che c'ha ormai ste pelone chi è che se con porgottis uuuu 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 non gli ha fatto entrerà un colpo e meno male scusa ma non è per te ma per pasquale ancora si prendono tutta ferma inizio ma è difficile la droga di resti solo tu in azione ero io allora oggi è andata così 5 a 1 guarda la partita la devi vincere se non vi si farsi sarà partecipato ma non lo vediamo alla fine questa è ma tutte le altre 5 non ho capito che cosa ha fatto pilone non ho capito perché prima di lui davanti davanti ce l'aveva un metro mi ha sparato un colpo 1 stavolta nemmeno io schivavo i proiettili io lui si 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 andavo a sedicare guardate la bandiera dei sopra del caso quasi nemmeno i proiettili che face le onde abbà mi raccomando eh congo barbara ti è il suggerimento da casa perché d'aiuto la casa cosa devi fare veramente quella davide comunque ah no che cazzo sai di zio mi dici dove vai così o ad al contrario preparatevi bella muori chi era deve morire opelono pasqual pasqual pari pasqual si registra pasqual eh ora mi sono cazzate ma che cazzo ci si è davvero si che andiamo sui pesate oh sempre tu ci stiglia a bollone eh mi sono cazzate va buone tutto con il prossimo round che però c'unti non è fatti quello che sarebbe prima mia cosa sono fatti i gaffi ma pari qua per quella i tre cucine guardatevi e uccidete che buono? a me è Cristian in serio gioca Magico 4 Io si Amore io ce l'ho d'oro Ok a te Ormai la mamma è un secchino da A me è quello bello Mi incavalli si può andare a vivere Giocate Ma chi è? Do' stava questo? Ma chi è? Ma chi è? Ma chi è? Giocate Guarda Pasquale guarda come sta la cecchino Giocate Trovateli e uccideteli Chi è quei Holger? Questo è una manigretta leggera Ma vaffanculo va Smirato di brutto Mamma Ma aveva finito il munizio o aveva finito? Non sapevo dove andare Questa stasera ma tuttato questo qua invece Oh Filon Grazie No È troppo bello Perché sappiamo che ci sarebbe salita Oh sta al centro Dai uno sopra c'è l'aria Dai sopra c'è l'aria Scendi scendi di là di là di là di là di là Di non è al che Vai vai dritto qua Eh ma buono Dico che uniamo così senti Guardate lo schermo Non va a guardare lo schermo 10 secondi Grazie Secondo me il pilone ti le cuffie al contrario A destra e sinistra lo contrario ti hai messo Va a tirare la bandiera Spare Spare Siamo all'obiettivo Attendere Eh A posto grande Obiettivo congruente Nooo Convinti che stai sotto ma non c'è me Sotto sotto Se sta proprio sotto e in mezzo Sono solo a me Eh Vai vai Eh Vai vai Oh va via Sì 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 Bah dai su scinti spare Tu sono tu tovarisch Completa il lavoro Ma la bomba è nella testa Ma la bomba è nella testa Ma la bomba è nella testa Ma te che ti torni Ma ma che fa ti ha messo a ciò che ormai la vita e ho fatto il dio sberla e jeff li ho fatti da solo state fermo all'antro fatti da solo è buia vado in giro per la mappa resti soltanto tu ma che cazzo è ma inziore bravo bravo questo se fossi butta la bomba sparavola ci lei se fossi in genere di buttare la bomba sparavola ci lei buco di culo che tenuta che palle no ma che cagata che sto qua 10 secondi questo cazzo di merino mi sta e cle cle a sinistro a sinistro obiettivo in campo intercettate ma dai no ci stai mancando tu eh eh oh e prima ho giocato da sola eh eh tu devi dare sempre il supporto alla squadra eh voglio due uccisioni sta mangio pia da sul cazzo sto merino oh ma cazzo a smerch tu c'è ma c'è lo zio che ancora non ha preso di fuori Siamo terreno! Dovete reagire! Guarda come sta la camper! Alla! Un z-mode! Alla! Sì! Un z-mode non è lento! Sede ceste! Che armaci d'alto! Ma lo vogliano! Lo bombano! Il bomba! Questo è basta! Ma se... T'ho preso prima io! Chi sto! Porta Pasqua! Porta Pasqua! Vai! Ripiegare soldato! Pasqua tuta la muri Pasqua! Ma chi è che ce la camperà? Ma se è mulat! Che è che ce la camperamo? Eh oh! Ti lo ho! Ho deciso! Ho dato che stai trovando un problema a te Pasqua! Sempre più uccisione di tutti! Sì! Sì! Grazie! Ti perdi! S'aspetta che ve la agenda! Dami come tu! Sempre più uccisione di tutti! Una volta è venuta tutte morte! 5 a 2! Esatto! 5 a 2! Mi hanno recuperato questa paratina! Sì ma non mi hanno aiutato! Sa partita per niente! E' che qua! 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 noi siamo una grande squadra e lo stiamo dimostrando 5 a 2 non fate errori nei prigionieri che pezzo di merda dentro il contene rosso soltanto con un'arma del genere e il portale grande il bando se vogliono morire per la missione così si amo canto eh, ti è deciso guarda l'amore questo non ho pennezzato ma io vado con me ci abituato lo sa che io quando gli dico così lui si carica eh, vai corre col muretto guarda l'amore, 15 più hit di soccone non mi vado la frega però eh guarda l'amore bravi bravi mi provi all'attacco mp7 no guarda che culo adesso non pede non pede a mezzo di prese a mezzo di prese a sinistra dietro di te 10 secondi vai no no io l'avevi stata un'altra parte ma secondo me a dire perché